amore francescano sono venuta a chiudere il portone poi presto lo giusteranno ma tanto vedi te ti interessa l'aiuola qui per fare il francescano allora è venuta l'antonella ha detto che sei unto polveroso e ruvido pensa io devo provare a farti sto bagnetto mi sa perché si dice che sento un pelo polverosa rispetto a mirti che sta in casa per forza piace tanto qui vero piace tantissimo qui a meditare devi meditare su quello che hai fatto che non si esce di notte mai adesso io chiudo non si esce di notte mai infatti l'ultima volta ti ho trovato a casa su sul tagliere sullo scottex e quello è il posto tuo soggiusteremo sto portone perché le vie stanno in pensiero giustamente io so che di giorno tu sei bravo e di notte è stato un incidente ma cosa c'è qui di interessante non si sa amore sceta contemplativo però vuoi sempre bene alla mamma la mamma più di tutto adesso andiamo dal nonnino se vuoi emosi dov'è mosi ha sempre dei posti segreti mosi anche in camera mia l'ho chiamato stamattina era in casa io non me ne ero accorta vabbè qua doveva piovere da venerdì che doveva piovere e non ha piovuto vieni amore vieni sei proprio tanto bravo sei tanto tanto bravo tu vieni vieni anche su dal nonnino ti va ti va di fare le scale guarda che i video troppo lunghi non li guardano fino in fondo eh lo dicono le statistiche quindi io ti saluto ciao due